Nella bolgia dei venerdì Piacentini passeggiava in via Sant'Antonino con due bici al seguito, un gesto che non è sfuggito ai carabinieri in servizio per garantire la sicurezza dell'evento. Fermato per un controllo, i militari hanno riconosciuto subito il 48enne che era stato condannato agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L'uomo non ha saputo giustificare la provenienza ed è stato arrestato per evasione. Chi riconoscesse le biciclette si può rivolgere ai carabinieri. Le biciclette sono state sequestrate, adesso stiamo verificando se riusciamo a trovare i proprietari per poterli restituire e questo soggetto è stato arrestato dai carabinieri di Pacenza Levante per l'ennesima volta perché già in passato è stato arrestato sempre per evasione.